Fere, quest'oggi dobbiamo testare una cosa molto molto importante su GTA V Dobbiamo testare quanto è intelligente l'ambulanza Qui secondo me siamo freschi, cioè quando abbiamo provato a fare qualche provettina non è che l'ho dimostrato tutta questa intelligenza No Fere, oggi ti stupiranno e la prima cosa che proveremo a fare è chiamarli stando qui in mezzo a nulla E ragazzi come va? Io sono Fere, Niki E io sono Stef, e oggi dedicheremo questo episodio di GTA V a testare l'intelligenza dell'ambulanza di GTA V Speriamo bene, speriamo bene Stef, perché io davvero non sono molto fiduciosa Secondo me falliremo tutto, andrà tutto malissimo e si riveleranno degli stupidi incredibili Lo so, però ci proviamo, ho preparato 5 test per l'ambulanza Allora, ti dico, secondo me in questo modo capiremo al 100% se l'ambulanza su GTA è intelligente o meno Ok E te li voglio già elencare così sai già cosa aspettarti da questo video Allora, la prima cosa che proviamo a fare è vedere se l'ambulanza va ovunque nel mondo Quindi proveremo a chiamarla qua, che è diciamo un posto totalmente disperso nel mondo Però se uno sta male qui sta male qua, quindi comunque l'ambulanza dovrebbe arrivare Dopodiché proviamo ad andare in uno di questi isolotti Ok, e questo è tutto per lo stesso tentativo Lì è già difficile però Qualunque punto di GTA, questo è il primo tentativo Dopodiché proveremo a bloccare la strada per l'ambulanza e vedere se in qualche modo trovano diciamo una via per passare lo stesso Che sarà molto interessante E gli altri dai, facciamo che non ti rispoilerò Sì dai dai, se no qui non iniziamo più Esatto, esatto, esatto Quindi partiamo chiamando l'ambulanza, vediamo che cosa succede Secondo me qua vengono Secondo te? Allora, qui secondo me sì ma nell'isolotto no Allora, nell'isolotto neanche secondo me Però lì vorrei vedere quantomeno dove siamo noi che provano a passare nell'acqua Capito? Beh almeno dimostrerebbero un interesse Esatto Mentre invece secondo me non mostreranno neanche quello Anche secondo me Allora, grazie mille un'ambulanza sta arrivando Teoricamente non ci hanno detto che non può venire qua Quindi dovrebbe arrivare a momenti È passato un minuto e per adesso nemmeno l'ombra Io per ora non la vedo neanche in lontano Allora fammi scendere un attimo No, 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 andiamo qui sopra Ecco, volevo andare lì sopra per iniziare A vedere se sta arrivando perlomeno Non vi piace la zona? Mi sa di no Cioè non ci stanno nemmeno provando Scusa, scusami un attimo Quando un servizio di GTA non è disponibile Ti viene detto tipo Esatto La macchina non ti può essere portata in questo posto L'ambulanza non può raggiungere questo posto Quindi però perché ci ha detto di sì? Non lo so E non arriva? Teoricamente dovrebbe arrivare Cinque minuti fermi qua Direi che è chiaro come il sole Se si sta facendo notte E l'ambulanza non si è vista neanche da lontano Quindi non è proprio arrivata Però Fere Io ti voglio porre un altro quesito Ok Qui non vengono Qui ne abbiamo già dimostrato Che le ambulanze non vanno ovunque nella mappa Però Vanno ovunque Dove ci sono cittadini diciamo Quindi Se noi ci spostiamo leggermente Sono circa 50 metri da dove eravamo Da ciò che qua ci sono dei veri cittadini Oh c'è un festival Scendiamo Scendiamo Andiamo a festeggiare Devi restare seria Perché stiamo facendo una valutazione importante Su come funzionano le ambulanze Quindi torna su nella moto No no io sto qua E perché cosa stanno facendo esattamente? Cioè perché hanno delle sorte di armature? Io sto andando a vedere Qua ci sono dei civili Quindi È normale che possa capitare Che qualcuno non sta bene E certo Quindi teoricamente Dovrebbe arrivare un'ambulanza A soccorrere queste persone Neanche qua Neanche qua Non ci credo Non ci credo Ai 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 Quanto parte male l'ambulanza Quindi non gliene frega nulla Se ci sono civili o meno Se la zona non gli piace A livello di strada Loro direttamente non vengono Penso che a questo punto Non raggiunga le zone troppo estreme Diciamo Della città Guarda Qua c'è una stradina Che puoi tranquillamente seguire Lo so Scendi E sei arrivato Questa è un'ambulanza Steph Sì Ok Ma secondo te stanno ancora provando ad andare O sono provati ad andare E sono tornati indietro Perché non gli piaceva la strada O magari stanno andando Aspetta che li seguiamo Aspetta Se girano a destra stanno andando Altrimenti no Mi sa che non gliene frega nulla Proprio zero 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 Qua Neanche fanno finta Stanno girando per i fatti L'oreba Forse però è l'ambulanza Che noi abbiamo chiamato È quello che dicevo Che ha provato ad andare Esatto Ma che poi non essendosi riuscita Sta tornando verso la città Esatto Potenzialmente potrebbe essere quello Abbiamo appena bloccato il ponte Sì Adesso Allora io scendo da qui Mi stanno infastidendo i civili Che continuano a cercare di passare Lo so Mette No non di tamponare Chiamo un'ambulanza Ok E vediamo che cosa succede Teoricamente l'ambulanza dovrebbe Fai restano impazzendo nel mentre È normale È normale Sai come funziona qui Dicevo teoricamente l'ambulanza Arriva da Prailito Bay Quindi se io sto da questa parte Del ponte Loro dovrebbero arrivare Appunto dal pullman Ma sicuro che magari non arrivi dalla tua E quindi non serve a nulla Eh non lo so Non lo so nel caso Ne chiamo un'altra da quella parte Ok perfetto Mi sembra semplice Allora io risalgo nel mio pulmino Perché voglio proprio godermi la scena E adesso vediamo che cosa succede Attendete un attimo Qui c'è una cosa importante da testare Anzi è per la vostra incolumità Perché se l'ambulanza Non è efficiente Cioè ci rimettete pure voi Cari miei civili Non provare a inventarti queste cose Ti prego Non sei credibile Ma è vero Abbiamo creato un traffico assurdo Ma è vero 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 Abbiamo creato un traffico assurdo Ma che mi prende Anche io la farei Stanno impazzendo qui Nel dubbio Non sai cosa sta succedendo Secondo me quella lì è l'ambulanza Anche secondo me Vero Anche secondo me Sì 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 È quella è quella Mi sembra Sì 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 È quella a fare Guarda Ha accese anche le sirene E piano piano si sta avvicinando Ok Ha già un po' di problemi Per quanto mi riguarda Perché stanno andando davvero lenta Ok Scommetti che va dritta Guardali Aspetta No 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 Sta frenando Ok Scendono Scendono Corrono Tornano nell'ambulanza E se ne vanno vero Secondo me sì Aspetta Hanno spento le sirene Hanno spento le sirene No 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 Ci stanno riprovando Ma hanno spento le sirene qui Ah quindi Non sono più Non sono più in stato di allarme Ok Però Se io Mi allontano ancora di più Ok Quindi vado ancora un pochettino più avanti Sempre qua E lo richiamo Secondo me si mettono a provare a suondare I due Pullman Come fanno queste macchine impazzite Scommetti Cioè non ci hanno neanche provato Ok Ho acceso le sirene Uh perché te l'ho detto Perché ho chiamato E sta cercando di suondare Vero Sì sì Avevo ragione Guarda Ci sta provando Arriva a guardare Arriva a guardare Ok No 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 Continua a provarci Non stanno scendendo dall'auto Aspetta Sono scesi Controllano la situazione È risalito Niente Sì perché quando mi avvicino io L'emergenza la prende non dove io chiamo Ma dove io sono Quindi quando mi riavvicino Loro smettono di provarci Però Avevo ragione In un mondo normale In un'emergenza del genere Secondo me chiamerebbero pompieri E polizia E cercherebbero un modo di passare E cercherebbero un modo di passare Se l'emergenza è importante Ma cosa vuoi Cioè tu pretendi anche che ci siano cose normali Qui su GTA E chiedere troppo Invece qua provano a sfondare un pullman Tutto il tempo E basta Sono anche rinunciato adesso Sono fermi lì E beh Ci sono arresi Perché c'è un pullman che fluttua Cosa sta succedendo Allora non è lì Quello è quel conducente pazzo Che te l'ho detto Che voleva bloccare Aspetta Cerchiamo di O cadiamo Ok ok Guardalo Guardalo Oh Fare Che succede? Sta volando Adesso dobbiamo provare Invece Dobbiamo testare un pochettino Quando diciamo Soccorrono una persona Quindi andiamo in città Dove almeno lavorano davvero E dobbiamo testare Diverse cose divertenti lì Preparati Perché Secondo me ce ne sarà una Davvero molto divertente Nuovo test per l'ambulanza Allora abbiamo creato Un incidente Diciamo così Molto sortunato Molto casuale E stiamo aspettando Che arrivi un'ambulanza A soccorrere queste povere persone Ok Nel momento in cui arrivano Li facciamo scendere Dall'ambulanza Per soccorrere i poveretti E noi con i due fuoristrada Diciamo Blocchiamo Le portiere dell'ambulanza Quindi impediamo Ai soccorritori Di rientrare Nell'ambulanza Dopo che soccorrono I poveretti Ok Vediamo cosa succederà Allora Arrivano da soli Noi dobbiamo chiamarli noi Perché qua io Neanche li vedo arrivare Guarda oggi davvero No dovrebbero arrivare loro Però scusami Stanno lavorando peggio del solito Davvero Non ne combinano Una giusta Ma come sempre Si stanno dimostrando davvero Delle persone poco professionali E adesso li chiamo io Perché altrimenti qua Secondo me Nemmeno arrivano Allora Mi avvicino proprio A dove è successo l'incidente Così è impossibile Che non lo vedano E adesso aspettiamo che arrivino Va Sento il rumore dell'ambulanza Fede Finalmente Mi sa che sta arrivando Qua ci sta facendo aspettare due ore Per forza provare questa cosa Perché Certo Non era il test Sul se sanno soccorrere o meno A volte Io provo a fare un altro incidente Vado Ok Lo faccio in grande stavolta Butto una granata qui In mezzo alle auto Ma Fede No no E voglio vedere se arrivano Almeno con le cose giganti Dovrebbero arrivare No Io ho già investito Un'altra povera persona Non c'è bisogno Ok Ho provocato un incidente Bello grosso Adesso che non ce l'ha bisogno C'è bisogno Perché secondo me Se non fai un bel incidente grosso Questi neanche si scomodano Capito Quindi adesso l'ho causato E vediamo cosa succede Fede devi stare calma No Perché non è possibile Che qui non ne fanno Una giusta Dico io Vabbè Hai chiamato l'ambulanza lì Eh no Perché dovrebbe arrivare Io l'incidente l'ho fatto Arrivano Io ho chiamato un'ambulanza qua E vediamo che cosa succede Se vedo che stanno scendendo Ti chiamo e vieni velocissima Tanto siamo vicini Ok Tieniti pronta a venire da me nel caso Prontissima Non ti preoccupare Stef Qua stanno arrivando i pompieri E anche la polizia Fede ho visto Sta venendo tutto Ok che le macchine Stanno prendendo fuoco Ma qui ci sono anche dei feriti Dov'è l'ambulanza Dov'è Non lo so Non c'è Non c'è Non gliene frega nulla Questa volta deve funzionare Non è posto più di provarci Abbiamo aspettato che arrivasse da sola Stanno scendendo Aspetta sono scesi Aspetta Niente Niente No 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 Fede oggi sono bugati Oggi hanno qualche strano bug Che non gli permette di salvare le persone nel mondo Non so più che dirti Se ci sono delle persone che hanno bisogno del stesso costo davanti a loro Aspetta No niente Sono fermati e basta questi eh Ma non ti sembra Almeno sono usciti Fede blocca uno sportello Ok vado 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 Assolutamente Quindi aspetta che salgo sopra l'ambulanza Adesso me la prendo io Allora Andiamo gli mettiamo noi Accendiamo le sirene I paramedici Chi vuoi soccorrere Fede Dimmi un po' Non lo so Mentre chiamo un attimo Lester Scusami un attimo Sono tristissima guarda Perché non ha funzionato nulla Si sono rivelati Degli incompetenti Totali 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 a 100% Davvero 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 assurdo Allora Vabbè noi andiamo in giro Adesso ti faccio vedere come si soccorre una persona Ok Meno male che ci siamo noi qui Guarda lo santo Meno male Allora Ok guarda È capitato un incidente Siamo già qui pronti Dimmi se non siamo perfettamente efficienti Esatto Guarda siamo già arrivati Questo poveretto non sta bene Questo poveretto Fede Non volevo fare questo Fede di nuovo Aspettila Vabbè non me lo fa prendere a calci Mi dispiace Ma non devi prendere a calci Volevo dare un calcio nella schiena per rianimarlo No 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 Lo devi osservare Ok Poi praticamente prendi il telefono Ok E ti fai un selfie Ok Perfetto Aspetta 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 Come si faccia il selfie Fede Non mi ricordo Devi guardare i tasti e metterlo verso di te Autoritratto Sì 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 Guarda Guarda la mia posa Guarda che bravi 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 Vedi Spero che ci hai lasciato un bel like E se la prima volta che vi vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 c'è 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 Grazie a tutti.